Sono Mauro Lipparini, il gesto del contenere, il progetto del contenitore, ho cercato in questo senso di portarlo più avanti, di andare oltre a questi confini del puro contenitore, quindi il progetto nasce con dei rettangoli, appunto KUKEI in giapponese. La sua geometria, molto semplice, molto schietta, recupera certi valori proprio di geometrie astratte, nello stesso tempo però è un prodotto veritiero, ricco di dettagli, pur mantenendo questo minimalismo, questa essenzialità tipica anche dei miei gesti progettuali. Il progetto è interessante quando il costruito sparisce a vantaggio di nuovo di uno spazio immaginario. Nello spazio immaginario principe è il vuoto, ma questo vuoto che cos'è? Non è la mancanza di qualche cosa, è invece la percezione di quello che si può sognare, amo la velocità, che sia correre a piedi, che sia in auto o che sia andare in sella ad un cavallo e sentire la potenza del cavallo che si sprigiona. Il vizio è quello che non mi accontento mai, per mia natura cerco di mettere in crisi quello che ho fatto, quello che dico, quello che penso. Vivere in armonia, vivere con il progetto vuol dire saper bilanciare tutti gli ingredienti progettuali, però l'armonia è anche poesia, è arte. Quindi per me in questo caso il senso di rapporto intimo che possiamo avere con gli oggetti, ecco, se riesco a raggiungere questo penso di aver fatto un buon progetto.